Benvenuti al meteo. La circolazione di maltempo che ha interessato la nostra penisola nei giorni scorsi si sta allontanando verso l'Europa nord-orientale, tuttavia le nostre regioni rimarranno ancora sotto l'azione di correnti sud-occidentali debolmente instabili che manifesteranno i loro effetti soprattutto sulle regioni centrali e settentrionali. Di conseguenza durante il fine settimana nella giornata di sabato sulla nostra regione ci sarà un rapido peggioramento del tempo su tutto il territorio, soprattutto nelle zone interne con precipitazioni sparse che potranno assumere anche carattere temporalesco. La temperatura è prevista generalmente stazionaria con venti sud-occidentali deboli e mare generalmente mosso. Tempo migliore nella giornata di domenica grazie ad una leggera tregua anticiclonica. Questo per il momento è tutto, arrivederci!